Tu pensi che ce la faremo a segnare almeno un altro gol in questi quattro minuti che ci restano, Patti? Certo che lo penso, ho molta fiducia in loro. Hai ragione, e per sostenerci noi non possiamo fare altro che ti fare meglio che possiamo. Avanti allora, tifosi della New Team Sporting! Forza! Forza! Forza New Team! Forza! Vischio dell'arbitro e il gioco riprende. Oh, grazie. Otto. La New Team ha pochissimo tempo per rimontare lo svantaggio e parte subito all'attacco. Forza New Team! Dobbiamo fare subito un altro gol. Forza ragazzi, dobbiamo fermarli con ogni mezzo, va bene? Va bene! La Muppet si sta chiudendo tutta in difesa. Devi assolutamente segnare un altro gol, Olly. La New Team Sporting Club sta avanzando verso l'area... Forza Muppet! Avanti, dovete fermarli! Forza Muppet! Non fatele passare! Formando un triangolo e continuano a venire avanti... Forza Muppet! Forza Muppet! Forza Muppet! Forza Muppet! La D, 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 la D. Bene ragazzi, non lasciatemi togliere il pallone. E' la sola cosa che devono evitare. Se la palla va in mano della Muppet, cominceranno a fare melina per perdere tempo. La mio team non può permettersi assolutamente di fare nemmeno un errore. Ora la palla è a Diamond che avanza e la passa in questo momento a Morris. Morris riceve e si dirige verso l'area avversaria, sicuramente per passare ad Atton. Ma Atton è strettamente controllato dall'Enders che gli impedisce di liberarsi. Oliver Atton, farò in modo che non passi nessuna palla diretta a te. Accidenti all'Enders! Jack, sta' attento! Morris perde la palla e sta in possesso a Mello! Non ci voleva. Cosa faranno? Non è facile rispondere. Forse faranno melina per perdere tempo. Forza, attaccate! Cosa? Lo scarto di un gol non mi basta. Dobbiamo farne altro. L'Enders ha ordinato la sua squadra di attaccare. Non è certo questa la tattica che tutti si aspettano. Mello continua a portarsi in avanti. Non bisogna mai adagiarsi sul risultato, ma a migliorare. La new team sta tutta rientrando in difesa. Forza, ragazzi, attaccate! Fatemi sotto! Avanza ancora la Muppets! Indietro, ragazzi! Non dovete permettergli di segnare altre reti, è chiaro? Passeremo lo stesso! Avanza ancora la Muppets! La palla in questo momento ci sta a Mello che al volo tira! Devo farcela! Non riuscirai a prenderla, bamboccio! Ma Crocker esce dai pali e para! Crocker effettua una bellissima parata! E tu vada dalla parte giusta seguendo il suo intuito! Bravo, Alan! Un bel lavoro! Ah, davvero un gamba! Non possiamo assolutamente perdere questa partita! Sei davvero forte, Alan! Il portiere della new team rimette la palla in gioco e pallone raggiunge Baker il quale vorrebbe passare la palla ad Hatton che però è sempre ostacolato da Lander Beh! Vai! Cross lunghissimo di Baker scazza in avanti Hatton sempre controllato da Lander Olli! Oh, Mark! Corri, Olli, dai! Forza, Mark! Forza, Lander! Devo farcela! Lo fermerò! Hatton improvvisamente spicca un salto e subito Lander se lo imita! Olli! 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 Eccezionale! Hatton si rialza e scatta in avanti recupera il pallone Vai, Olli! Hatton continua ad avanzare verso la porta avversaria avanza ancora! Dai! Forza! Ti fermerò Lander cerca di raggiungere Hatton ma non vi riesce! Oliver Hatton è più veloce di lui! Intanto il tempo sta per scadere avanza ancora Hatton velocissimo! Forza, Mark! Olli! Corri! Lander! 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 Olli! 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 Dai, Olli! Devi farcela! Devo riuscire a mine a pareggiare per mantenere la promessa che ho fatto a Benji! Hatton nella sua fuga è sempre più vicino alla porta avversaria e Lander si continua in vano l'inseguimento! Non deve riuscire a pareggiare deve vincere la mia squadra deve vincere a tutti i costi! Fermati Oliver Hatton! Fermati o ti fermerò io! Accidenti! Hatton riesce a schivare per un soffio l'intervento a gamba tesa di Lander! Ma com'è fatto? E fa partire un destro fortissimo ed angolatissimo verso la porta avversaria! Ed è gol! Magnifica azione di Hatton che riporta le squadre in parità! Un gelato! Un gelato! Ce l'hai fatto! Un gelato! È in gamba! Dai New Team sei la più forte! Olly Hatton sei davvero in gamba ormai siamo quasi ai 90 minuti faranno i tempi supplementari Pronto? Qui Bar Cramer Cosa? Ancora! Per oggi Non si fanno consegne a domicilio Sono molto occupato e non posso muovermi di qui Mi dispiace, va bene, va bene Richiami domani, faccia come vuole Arrivederci Di nuovo in pareggio La New Team Sporting Club ha pareggiato con Atton Quando mancano pochi minuti alla fine dell'incontro È incredibile Quel ragazzino mi sta facendo impazzire Devo vincere Per andare in Brasile, in Brasile In Brasile Non capisco come possa essere accaduto Nessuno ha mai riuscito a segnarci tanti gol in una sola partita Sarai un grande campione, Olly Sei perfetto nei colpi di testa Eccezionale incontropiego Lenders è un osso diverso Non accetta facilmente di perdere Ma tu sei riuscito a metterlo in difficoltà Mamma, è Roberto Mi dispiace molto, Olly Non essere potuto restare per vederti giocare nel campionato Ma sono certo che ti farai onore come sempre Ma mi raccomando Gioca sempre correttamente E con tutto l'impegno e l'amore di cui sei capace Anche ha soltanto una manciata di minuti alla fine dell'incontro E a questo punto io credo che la partita terminerà alla pari Nonostante sia ancora piccolo come statura Oliver Hutton è bravissimo anche nei colpi di testa Non sei d'accordo Daisy? Sì, anche se Lenders è più alto di lui Oliver è professionalmente più completo Però non si può dire chi vincerà questo incontro Il gioco riprende con la palla alla mappa Oliver Hutton Chi di noi due sarà il vincitore? Il tempo sta per scadere Questa è la nostra ultima possibilità Fatti sotto Mark Lenders Questa è la nostra ultima possibilità Grazie a tutti